Buonasera a tutti, visto che la mia amica Antonella, vi lascio qui il suo Instagram, andate a seguirla perché è piena di energia, è una bomba, ha iniziato il programma Slenderix nonostante lei non abbia problemi di peso, ma lo ha iniziato per una questione di salute, visto che siamo stati tanto tempo chiusi dentro casa, la salute delle ossa ne risente, quindi il programma Slenderix riguarda alimentazione sana, attività fisica e in più abbiamo gli integratori che ci aiutano come le gocce giorno e notte che ci aiutano a placare la fame nervosa, in più aiutano il metabolismo, poi abbiamo le vinali che attivando la microcircolazione migliora la cellulite, poi naturalmente abbiamo altri prodotti come gli aminoacidi, il Power Boss, abbiamo il MOA, una bomba di energia, abbiamo anche la vitamina D con il magnesio e il calcio per la salute delle nostre ossa, allora dicevo, visto che Antonella si è messa in gioco per la sua salute, a fare questo programma giorno per giorno, quindi per 28 giorni, lo prendo come una sfida, sfida Antonella, e lo inizio anche io da lunedì, quindi da lunedì farò dei daily vlog, cioè dei video giornalieri per 28 giorni, in cui vi farò vedere cosa mangio, come mi alleno, quale integratori prendo, come, quando e perché, quindi se non siete iscritti al mio canale di Youtube, fatelo adesso, Dieta Giannina Italia, perché lì posterò tutto quello che faccio per migliorare la mia salute e perché non la mia linea, quindi Antonella, sfida accettata! Grazie a tutti!